Ciao a tutti ed eccoci qui con la mia review della Alien Anthology Limited Edition Collection in Blu-ray In questo periodo farò più di qualche review delle mie Limited Edition perché avendone più di qualcuna forse vale la pena recensirle Parto col dire che sono un buon fan di Alien e di Predator e di questi due ho più di qualche Limited che vi farò vedere più là Ok, perché parto con questa? Perché secondo me questa è una delle migliori che ho visto per la cura che è stata messa nei dettagli dall'uovo all'Alien quindi io senza parlare troppo del prodotto vi farò una carellata e uno zoom sull'uovo e sull'Alien per farvi vedere la qualità e il livello di dettaglio riposto nella creazione di quest'Alien Anthology Ok, eccoci qua L'uovo, vedete, è stato riprodotto e ricostruito nei minimi dettagli e anche l'Alien Vedete qui la testa con un livello di dettaglio molto buono Vi farò vedere anche qui Il retro Anche qui vedete ci sono proprio Non hanno badato a spese nel ricreare Ok, i blu-ray sono stipati qui E praticamente qui c'è la prima trilogia La prima trilogia Ci sono Alien Alien 3 Alien la clonazione E due dischi con i contenuti speciali E un piccolo booklet Ok, molto interessante Secondo me questa è una limited molto interessante Ed una delle migliori che è stata prodotta negli ultimi anni E volevo farvi vedere una piccola chicca Regista La luce dell'uovo del leg Mitica, bellissima, stupenda Accendi Eh, queste sono chicche Sono chicche Sono molto interessanti E per un collezionista Sono come la ciliegina sulla torta Ok Questa è la mia review Piccola recensione della Alien Collection Anthology in Blu-ray E spero vi sia piaciuta E ci vediamo alla prossima review Ciao a tutti